Per carità ogni prodotto è a sé stante, questo aveva una finalità che era quella sicuramente di raccontare una storia vera e di raccontare soprattutto il riscatto e il bisogno e la ricerca di legalità che c'è in questo paese. Purtroppo magari se ne parla poco, ma insomma io sono convinto che la maggior parte di questo paese sia animato da vicine di onestà e di legalità, è una piccola minoranza che va tenuta a bada. Io quando l'ho vista da l'uomo del sud mi sono insolamente commosso nel vederlo, non mi sono sentito minimamente infeso, ho preso qualche stereotipo assolutamente, mi è piaciuta tantissimo, è una storia vera per cui spero che piaccia anche a più. Assolutamente perché si vanno a toccare dei merdi sicuramente ancora scoperti nella nostra coscienza collettiva e quindi queste storie servono a creare cultura. Purtroppo in realtà il nostro sistema produttivo è legato a questo tipo di rilevazione, magari bisognerebbe trovare dei metodi più attendibili che rispettino anche il gradimento, oltre che la quantità da ogni acolo che troveranno un modo per rassicurare gli inserzionisti.